Grazie a casa, grazie Carlo Torbani, grazie alla nostra redazione web, tutte le notizie aggiornate sul sito di informazione della RAI, rainews.it. Andiamo adesso a vedere quelli che sono gli altri appuntamenti del giorno, uno dei nostri pilastri, Cardine, nella mattina informativa. Eccolo a cui l'agenda è già comparsa, a Bologna 10.30 alla Lega Coop, Biennale dell'Economia Cooperativa, sarà presente il Presidente della Repubblica, Mattarella parlerà probabilmente anche degli incidenti sul lavoro di Borgo Panigale. Poi invece alle 18, a Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio Meloni, incontro la Presidente del Parlamento Europeo Mezzola. Andiamo invece poi dall'altra parte dell'Atlantica, a Washington per il G20 di Finanza, Clima, Ambiente, Esteri e Banche Centrali, sarà presente il nostro Ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin. E invece a Kazan continua il vertice dei BRICS, incontro oggi previsto tra il Presidente Putin col Segretario Generale delle Nazioni Unite, Gutierrez. E poi l'Europa League, lo dicevamo prima, si gioca all'Olimpico Europa League, Roma-Kiev, e terza giornata del Girone. Eccoci qua, questi sono gli appuntamenti diciamo in programma oggi, ma in programma in questi giorni ci sono anche sgravi, scadenze e quant'altro. Ci ha raggiunto in studio, è tornato a raggiungerci in studio Gianluca Timpone, commercialista. Ciao, buongiorno, ben ritrovato con noi. Allora guarda, qui ci sono un sacco di pagine che sembrano fatte per te. tasse bonus, tutte le novità, manovra arriva a 30 miliardi, come cambia il CUNO? Guarda, io te ne ho girato anche un paio, eh? Sì, in realtà si sta formando quella che sarà effettivamente la manovra di bilancio. E quindi i vari interventi che sono stati inseriti sembrano in un certo senso venire fuori e quindi si riesce a comprendere meglio quali saranno gli effettivi vantaggi per tutti i contribuenti. Vabbè, fantastico, è bellissimo. Sembra quando uno arriva in porto con la nave e tu sei un po' il rimorchiatore perché io mi sento perfettamente tranquillo quando tu ci sei a spiegarci queste cose complicate. Andiamo a vedere perché con te, con Federica Bono e Manuel Fondato abbiamo preparato una serie di grafiche per spacchettare un po' questa manovra finanziaria e vedere quelle che sono effettivamente i cambiamenti e chi riguarda. Allora, sfogliamola insieme, Maurizio Moroni, il nostro regista. Eccolo qua. Allora, questo è importante perché c'è stata una sforbiciata per ciò che riguarda la detrazione. Noi sappiamo benissimo che quando andiamo a fare la dichiarazione dei redditi e abbiamo sostenuto delle spese per interessi sui mutui, per l'acquisto di farmaci, per interventi di ristrutturazione, abbiamo diritto ad una percentuale che possiamo portare in meno rispetto a quelle che sono le tasse da pagare. Ora, che cosa... Mi tengo gli scontri nel detraggo, no? Sì, anche se grazie, come dire, alle precompilate, noi troviamo tutto all'interno della nostra area. Quindi, teoricamente, anche se dimentichiamo... Quando dai il codice fiscale. Esattamente, dimentichiamo un documento, lo ritroviamo quando andiamo a fare la dichiarazione dei redditi precompilati. Questo è un servizio ottimo che ci consente di non perdere il nostro diritto a determinate spese che danno luogo ad una detrazione. Per quanto riguarda questo tipo di intervento, si è stabilito che fino a 75 mila euro di reddito non ci sarà alcun tipo di taglio. Da 75 mila euro... Niente meno detrazioni. Niente meno detrazioni. Tutto come prima. Tutto normale. Invece, da 75 mila a 100 mila e da 100 mila a salire, interviene il cosiddetto quoziente familiare. Ciò significa che, in base a quello che sono le nostre detrazioni, vengono ridotte o aumentate in base a quello che è il nostro reddito e il numero dei componenti del nucleo familiare, in particolar modo dei figli. Qui, ad esempio, c'è una tipica famiglia con un figlio, dove può portare in detrazione, avendo un reddito da 75 mila a 100 mila euro, fino ad un massimo di 9 mila e 800 euro. Importo che sale, se anziché avere un figlio se ne hanno due, si può arrivare di poco superiore a 11 mila euro. Questo perché? Perché effettivamente è stata data maggiori vantaggi a coloro i quali hanno un nucleo familiare più o meno numerose. Quindi più figliai, più detrai e più detrai, con un limite massimo. Diciamo che misura a favore della natalità. Ok. Andiamo avanti, andiamo a vedere le altre detrazioni, le altre cose previste nella finanziaria. Una cosa importante è che, per quanto concerne le... Eccoci qua, spese sanitari... Queste sono, ad esempio, le spese che non sono soggette a tagli. Significa che, per quanto riguarda le spese sanitarie per farmaci, non subiscono, non rientrano tra coloro i quali devono essere ridotte in base a quelle che sono le percentuali di qualsiasi familiare. Una cosa importante, se le vede nella grafica, ci sono le detrazioni per interventi di ristrutturazione. Questo è importante perché tutti gli interventi di ristrutturazione che danno dritto ad una determinata detrazione, se pagati entro il 31 dicembre del 2024, non subiranno alcun tipo di limitazione. Ma la limitazione riguarderà solo ed esclusivamente le spese dal 1 gennaio 2025 in avanti. Ok, quindi quello che si è fatto finora... Esatto, non rientra tra gli importi oggetto di riduzione. Stesso discorso per quanto riguarda gli interessi su mutuo per l'acquisto, ad esempio, per la prima casa o per interventi di ristrutturazione. Anche in questo caso la quota interessi non subirà delle detrazioni e riduzioni. Indipendentemente dal proprio reddito o entro quelle soglie, 75 mila? Sempre nell'ambito del reddito che è stato stabilito. 75 mila. In realtà, siccome non ci sono detrazioni, anche se il reddito è maggiore, comunque non rientra nel numero delle spese che saranno oggetti a taglio. Quindi questo è Telescari. Esatto. I parametri vengono utilizzati, 75, 100 mila e a salire, solo ed esclusamente per le spese che poi saranno oggetti a riduzione. Poi altri punti a favore della natalità, cartello C di Cagliari ovviamente. Sì, questo è... Bonus 1.000 euro nuovi nati, giusto? Sì, un sussidio, una tandem riguardo solo ed esclusivamente i nuovi nati a favore di nuclei familiari con un reddito di sé sotto ai 40 mila. Quindi questo è il limite massimo entro il quale si può beneficiare di questi 1.000 euro che sono una tandem. Allora, andiamo a vedere quello di estensione congetto parentale, quello di Empoli. Sì, questa è importante, è una misura perché oggi, per quanto riguarda il congetto parentale, era previsto che il lavoratore, in questo caso dipendente, potesse beneficiare dell'80% dello stipendio fino a due mesi di astensione, cioè sta a casa due mesi, beneficia dell'80% dello stipendio. Ora, si è esteso ad un terzo mese, quindi anziché due mesi sono tre mesi, fino al compimento dei sei anni d'età del bambino. Quindi significa che un genitore può astenersi e può beneficiare del congetto parentale fino a tre mesi con uno stipendio dell'80%. Quindi c'è stato un incremento di un mese in più. Abbiamo anche la grafica, ecco, questo interessa tanto, anche questo. Bonus di ristrutturazione di prima casa, F di Firenze, andiamo con tutte le città del cuore. Esattamente, questo è importante perché a seguito di quelle che sono state tutte le polemiche sul super bonus e degli interventi di ristrutturazione, si è deciso di effettuare una riduzione rispetto a quelle che sono le detrazioni aspettanti nel momento in cui intervengo e quindi faccio dei lavori all'interno del mio immobile, quindi all'interno della mia abitazione. Che si è stabilito? Si è stabilito che tutte le detrazioni che prima beneficiavano, ad esempio dell'80%, del 50% e via discorrendo, sono state ridotte al 36%, ad eccezione per quanto riguarda l'ecobonus, o sismabonus, che beneficiava di aliquote totalmente diverse e in quel caso viene portata al 50%. Però, per quanto concerne la prima casa, se noi ad esempio dall'anno prossimo andiamo a ristrutturare un secondo nostro immobile, possiamo beneficiare massimo del 36% con un limite massimo di 48 mila euro. Ad eccezione però che anziché essere seconda casa e prima casa, questo limite sarà di 96 mila euro con una detrazione del 50%, però solo ed esclusivamente per la prima casa rimane al 50%. Per tutti gli altri immobili è il 36%. Poi una novità eventualmente interessante, sempre per quanto riguarda il superbonus dell'ultima ora, siccome c'era la possibilità di poter perdere delle quote per lavori precedenti, perché potevano essere recuperate soltanto in cinque annali uta, si è stabilito che queste annualità possono essere portate a 10, in modo tale che anziché recuperare la detrazione si può spalmare, non in cinque anni, esatto, in dieci anni. Perché? Perché ricordiamo, siccome è venuto meno la cessione del credito, e lo sconti in fattura, si può utilizzare la detrazione solo ed esclusivamente a riduzione delle imposte. Spesso però, se le imposte sono, come dire, inferiori rispetto alla detrazione, la differenza non la recuperiamo e quindi si è dato la possibilità di poterle beneficiare. Questa è una misura, insomma, molto importante e utile. Una misura alla quale noi non dobbiamo assolutamente trasgredire, invece staccarci da Rai3. Noi adesso mandiamo il nostro cartello di stacco, restiamo a casa nostra sul canale 48, allora stacchiamoci. Grazie agli spettatori di Rai3. Grazie agli spettatori di Rai3. Eccoci qua, siamo ritornati in onda, siamo a casa nostra, canale 48, Rai News 24, è finito il simulcast. Gianluca, vieni, perché mi suggeriva Vicaretti che è lì, che sta preparando la sua rassegna stampa, facciamoci questa camminata insieme nello studio, che così bello. Tu vai di là, io dico, lo attorniamo. Alla sua destra. Mi inizio a preoccupare. No, sentiti piuttosto con il gioco. Buongiorno Roberto. Allora, mi suggeriva poco fa, io qua non ho farina del mio sacco, allora glielo volevi chiedere? Glielo chiediamo. Chiediglielo, vai. No, perché leggo dal Fatto Quotidiano, concordato verso il flop, leo teme commercialisti. Perché leo teme commercialisti? Qua c'è già una certa sindrome di complotto, se vi ci mettete anche voi. In realtà c'è, come dire, una condivisione, nel senso che si sta parlando del concordato preventivo, quindi una misura innovativa, che ha subito nel corso di questi ultimi giorni anche delle modifiche, per cui effettivamente andare a fare dei calcoli e quindi consigliare per meglio i propri clienti, se scegliere o meno il concordato preventivo, risulta essere arduo e complicato. Quindi si era chiesto da parte di gran parte dei commercialisti una sorta di proroga che al momento sembra non essere stata concessa. Anche perché oggi, per quanto concerne i dati relativamente a colori i quali teoricamente aderiranno al concordato preventivo, le percentuali sono più o meno basse, in ragione del fatto che ancora non si è stabilito. O meglio... Ha sciolto i tuoi dubbi. O meglio... Sì, non so se hai sciolto quelli di lei. E mandiamogli la clip, adesso la facciamo estrapolare a Federica Bono, mandiamo al viceministro... Tra l'altro una cosa importante è che i risultati dell'adesione, come dire, influenzeranno anche l'eventuale taglio della seconda alicota IRPEP, perché quella... Quindi speriamo che ci siano molte adesioni in modo tale da ridurle. Perché se non c'è, non c'è il taglio. Insomma, hai visto? Il timpone è preparato. È in funzione. Non c'è niente da fare. Non lo scalfiamo. Non si muove, invece non si muove, ma poi deve tornare indietro. Quindi, essendo in macchina, timpone, noi andiamo a vedere... Ah sì, già. Aspettavo a questo, sì. Aspettavo le notizie del traffico dell'ANAS. Eccoci qua. Valentina, buongiorno. Buongiorno a voi in studio e ai telespettatori di Reneus 24. Per quanto riguarda gli eventi dell'ultima ora, segnalo una riapertura avvenuta poco prima delle tre di questa notte nelle Marche, lungo la strada statale 16 Adriatica, che era stata temporaneamente chiusa a causa di vari allagamenti che si erano verificati in diversi tratti in località Senigallia, in provincia di Ancona. Nella serata di ieri è stata poi riaperta al transito in Emilia Romagna la strada statale 64 Porrettana, dopo la chiusura che si era resa necessaria per i soli veicoli leggeri in entrambe le direzioni, causa allagamento, ciò in località Vergato, in provincia di Bologna. Specifico ora che dopo le chiusure dovute a Frane, verificatesi nei giorni scorsi per il maltempo, sono state riaperte con transito a senso unico alternato, la statale 1 via Aurelia in Liguria, in località Borghetto di Vara, in provincia della Spezia, e in Toscana, sia la strada statale 67 Tosco Romagnola, in località La Strassigna, in provincia di Firenze, che la strada statale 12 della Betone del Brennero, in località San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoglia. Invito gli automobilisti a ridurre la velocità con il maltempo e a controllare lo stato degli pneumatici. E ricordo il numero 800 841 148, il sito stradeanas.it, per informazioni di viabilità in tempo reale. Grazie, grazie Valentina, grazie all'ANAS, queste le notizie sul traffico, nei puntualissimi 6.59, 45 secondi, che cosa facciamo adesso? Vai, questo tipo, lo sa, lanciamo il sacco, titoli e poi la rassegna stampa a convicare. Benissimo, seguitissima tra l'altro. Bene, allora, facciamo quello che si può. Facciamo tipo a seguire, come la colonna delle autoveicoli. Vai, linea alla regia. Facciamo tipo a seguire, come la colonna delle autoveicoli.